Salve tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video riguardo al disco alla creazione di un disco su pc e avere tanto spazio sul sistema ovviamente per fare questa cosa vai sul tasto sul logo di windows 11 tasto destro sopra gestione disco e qui andiamo poi a creare un nostro disco ovviamente come puoi vedere ho creato un disco da 3071,98 giga poco fa e se vai su azioni crea file vhd vhdx supporta dischi virtuali di dimensione superiore a 2040 giga tu vai qua sopra clicco qua sopra tb terabyte metti 3 sfoglia e diamo così un nome a questo disco ovviamente io questo disco lo chiamerò 3 terabyte disk 2 desktop salva una volta fatto vai su ok vai su vhdx facciamo ok ecco che abbiamo creato il nostro disco clicchiamo tasto destro sopra inizializza disco gpt e fai ok una volta inizializzato così il disco non ci resta che creare così il volume tasto destro sopra nuovo volume semplice fai avanti avanti assegna così una lettera io metto b avanti avanti formattiamo ed ecco che si è creato il disco ovviamente non abbiamo finito se tu vai a spegnere il tuo pc o lo riavvi oppure scatta così un blackout e si spegne il pc tu perderai questo disco il disco non lo perderai per sempre tu basta che vai di nuovo su gestione disco azione collega file vhd sfoglia desktop e vai a mettere il disco che abbiamo creato e faccio apri ed eccolo qua e faccio ok il disco virtuale è già visibile ovviamente io già lo tengo installato sul pc se andiamo anche su questo pc come puoi vedere ho creato un disco l'ho assegnato così la lettera b 2,99 terabyte ho creato il mio disco e qua dentro ci posso mettere foto video documenti se ci entrano possono anche metterci dei giochi ovviamente questo disco serve anche a far capire al sistema che noi abbiamo ancora spazio anche se sul nostro disco principale per esempio ci rimane che ne so un giga e non ci fa più mettere niente quindi tu puoi direttamente mettere un file o un gioco su questi altri dischi virtuali quindi se questo video è stato utilissimo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao